Da pochissimi giorni a dirigere il pronto soccorso di Arezzo, lei viene da Careggi, intanto partiamo da qui. Sì, vengo da Careggi dove direi che sono praticamente nato perché ho fatto l'università a Firenze, la specializzazione a Firenze e poi ho cominciato a lavorare al pronto soccorso di Careggi fino a quando non ho assunto questo nuovo incarico e mi sono buttato in questa nuova avventura. Ma direi una situazione dal punto di vista professionale molto bella, ho trovato un gruppo medico-infermeristico molto affiatato, molto stanco perché purtroppo sono pochi, quindi si ripropone il classico problema di tutti i pronto soccorsi d'Italia, sono molto sotto numero però insomma si stanno veramente tanto da fare, quindi uno dei miei primi obiettivi in qualche modo sarà quello di dover potenziare questo gruppo che merita di essere potenziato. Ecco, immagino che appunto questa stanchezza e due anni di pandemia l'abbiano accentuata, qual è la fotografia attuale? Sappiamo che ci sono tra l'altro ovviamente la bolla Covid, la conosciamo tutti, poi c'è una seconda bolla di chi entra, magari accede al pronto soccorso senza sapere di essere positivo, insomma la gestione di questo momento non è semplicissima. Non è semplice perché rispetto, ora io diciamo non ho la differenza tra qui nella fase piena pandemia, prima, seconda ondata ed ora, però penso sia uguale a quella che era a Careggi, la differenza sta nel fatto che mentre prima durante il lockdown c'era una patologia che non arrivava più al pronto soccorso, basti pensare ai traumi, c'è stato un periodo di due mesi nel 2020 in cui i traumi non arrivavano. Ora siamo in una fase in cui ai pronti soccorso tutti, compreso Chiarezzo, arriva sia le patologie ovviamente solite, sia la patologia Covid, che forse non è più così importante come non era la prima fase, quindi diciamo la parte di insufficienza respiratoria severa è diminuita ma arriva tutti i pazienti che ahimè hanno una patologia e sono Covid positivi, per cui si è un pochino spostato il livello, per cui insomma l'impegno è tanto, c'è questa bolla Covid, ora stiamo sperimentando dei tamponi antigenici rapidi al triage per poter fare in modo tale di indirizzare con più facilità i pazienti verso il percorso pulito o verso il percorso sporco, quindi ecco anche questa è una novità di questi giorni e penso e spero ci possa portare dei grossi vantaggi. Le persone hanno capito insomma che l'accesso al pronto soccorso ovviamente non è tra virgolette una passeggiata oppure c'è un utilizzo invece comunque un po' sbagliato di questo presidio, considerato il fatto ad esempio che nel fine settimana insomma i medici di famiglia non rispondono, non ci sono, ci sono le guardie mediche ma è complicato parlarci. Questa è un'annosa questione che nasce da prima del Covid ovviamente, anzi se vorrei dire quasi paradossalmente il Covid in questo ci ha aiutato in questa fase, io spero che la gente una volta finita la grande pressione del Covid o comunque una volta che il Covid sarà diventato endemico riesca a capire che forse tutto sommato si poteva fare a meno del pronto soccorso per certe cose. Come ho già detto in altre occasioni è molto importante che la popolazione capisca che esistano delle malattie gravi che non sono urgenti, sembra un giro di parole ma di fatto è così, ci sono delle malattie gravi che non sono urgenti ci sono delle malattie invece che sono urgenti e vanno viste subito, di cui la maggior parte sono gravi ma non tutte quelle malattie urgenti sono gravi, però il paziente ha bisogno di essere visto in modo urgente dal pronto soccorso ci sono delle malattie gravi croniche che invece il pronto soccorso non dovrebbe gestire per cui io spero che una volta finita la pandemia la gente prenda coscienza non credo che sia più un problema mentale della popolazione, però vediamo questo ovviamente non è un problema di Arezzo, è un problema diciamo generale di tutta Italia. Sicuramente però l'integrazione tra la medicina del territorio e ovviamente l'ospedale può alleggerire il peso nel pronto soccorso, che situazione ha trovato? Si ha già avuto un'idea di qual è la situazione? Si, di sicuro può alleggerire, devo dire per l'esperienza Covid io ho trovato un'ottima organizzazione qui c'è un'organizzazione ottima per quanto riguarda la gestione del paziente che è positivo comunque ha una malattia Covid, le cure intermedie funzionano veramente bene devo dire sono rimasto piacevolmente sorpreso di questa organizzazione che sta dando i suoi frutti ecco per quel poco tempo che ho potuto vivere qui e sono molto sorpreso in senso positivo. Ci spiega meglio questa novità allora del tampone che ci diceva prima in fase di triage? è un tampone antigenico di quelli di ultima generazione, rapido, che ci permette ovviamente non in tutti e mi raccomando quando dico non in tutti il pronto soccorso non sarà quello che farà i tamponi alla gente perché questo è un messaggio che voglio lanciare in modo significativo e chiaro nei pazienti che giungano al pronto soccorso con una sintomatologia, con una patologia con un dubbio importante di poterli già orientare a un percorso sporco o no noi abbiamo due tipi di percorso, il percorso pulito e un percorso sporco chi viene dal territorio e sa già di essere positivo prende il percorso sporco chi invece si presenta di sua sponte ma ha una patologia che possa far pensare a un coinvolgimento del Covid quindi una febbre o un'insufficienza respiratoria o qualcosa oppure un contatto, una sintomatologia con febbre o un contatto con un positivo gli viene fatto questo tampone e nel giro di 20 minuti ci dice subito se c'è positività o no i tamponi di ultima generazione antigenici, rapidi, quando vengano positivi sappiamo quasi sicuramente che sono positivi quindi ci permette una miglior gestione del paziente, un minore rischio per i sanitari sicuramente e un minore rischio per gli altri clienti del pronto soccorso che sono nella fase pulita ecco